Il nostro itinerario enogastronomico ci conduce a Caluso, cittadina piemontese a pochi chilometri da Torino, diventata famosa per la produzione del vino erbaluce di OCG del territorio. Una delle cantine storiche della zona è quella di Gnavi, che visitandola racconta ancora oggi la fine dell'Ottocento. Quest'azienda familiare lascia il testimone all'unico erede, Carlo, che tra tradizione e innovazione è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da proporre al mercato vinicolo. Non mancano le occasioni per presentare nuove realtà, come il Vermouth Don Guglielmo 1918, erbaluce di OCG in purezza, e le altre produzioni, dal bianco secco al brut millesimato, fino al passito. La cornice Liberty del ristorante Jardin Flory ci ha fatto apprezzare, grazie anche ai sapienti abbinamenti dello chef Denis Jaccarini, la qualità e le emozioni che questi vini unici sanno trasmettere. Grazie a tutti.